Meteograd. Le previsioni meteo sempre con te. Segui ora il canale e lascia un mi piace. Grazie. Evoluzione sul comparto euro-mediterraneo per domenica 14 aprile 2024. La configurazione barica su larga scala inizierà a cambiare attraverso l'innesco del moto meridiano di una zona anticiclonica presente in Atlantico. Di conseguenza l'area perturbata tra Regno Unito e Scandinavia inizierà ad allungarsi verso sud in direzione dell'Europa centro-settentrionale, dove il tempo tenderà a peggiorare. Nel frattempo permarrà un vasto anticiclone a contributo subtropicale sui settori meridionali europei e mediterranei, dove le temperature raggiungeranno valori da inizio estate. Previsioni meteo in area italiana per domenica 14 aprile 2024. Nord, stabile e soleggiato su tutte le zone, salvo la presenza di qualche nube di tipo alto, più compatta in area alpina. Formazione di qualche banco di nebbia a tratti di prima mattina lungo il corso del fiume Po. Centro, sereno o poco nuvoloso su tutte le zone con al più qualche blando ed innocuo passaggio di stratificazioni, specie nel pomeriggio. Sud e isole, bel tempo al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le zone. Nel corso della giornata assisteremo ad un aumento delle nubi medio-alte, che diverranno compatte in Sicilia, dove non si escludono sporadici ed isolati piovaschi. Temperature massime in ulteriore aumento con punte eccezionalmente elevate in alcune vallate interne, dove si toccheranno picchi di 30 gradi Celsius di massima. Minime nel complesso stazionarie, picco dell'irruzione calda raggiunto, con termiche in quota di stampo estivo. Ventilazione debole a regime di brezza con qualche rinforzo sul comparto siciliano. Mari calmi o al più poco mossi nelle ore centrali della giornata. Localmente mossi a sud della Sicilia. Tendenza in area italiana per lunedì 15 aprile 2024 e martedì 16 aprile 2024. Inizierà il cedimento graduale dell'alta pressione di stampo subtropicale. Infatti, nella giornata di lunedì, le nubi torneranno ad aumentare un po' su tutta la penisola, risultando più compatte in area alpina, dove vi saranno precipitazioni a tratti intense e diffuse, specie sul comparto orientale. Qualche pioggia in arrivo anche sulla Sicilia. Pressione in drastico calo martedì, con maltempo in arrivo al nord ad iniziare dal comparto orientale ed alpino. Piogge diffuse e temporali anche in Sicilia ed a tratti sulla Calabria. Altrove nubi irregolari in un contesto asciutto. Calo termico e venti in rinforzo. Grazie a tutti della vostra attenzione. Non dimenticarti di iscriverti al canale e di attivare la campanellina per ricevere le previsioni aggiornate. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.